Senza tregua continua inesorabile la scia di sangue sulle strade bergamasche mentre si apprendeva la notizia del decesso di Oscar Salvi, il 25enne di Ponteranica ricoverato in gravi condizioni agli ospedali riuniti di Bergamo dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi lo scorso mercoledì, pochi minuti prima di mezzogiorno di questo sabato 8 gennaio, il conducente di una Opel Corsa in viaggio sulla strada statale 671 dopo aver perso il controllo della vettura si schiantava contro lo spartitraffico che delimita l'uscita verso il centro commerciale alle valli al confine con il comune di Seriate rimanendo imprigionato nelle labiere dell'utilitaria. Tempestivo l'intervento di una medicalizzata del 118 i cui sanitari appurato lo stato di salute della passeggera 37enne, cosciente ma con forti dolori in tutto il corpo, procedevano al trasferimento presso le cliniche Gavazzeni. Si è dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco per liberare il guidatore 34enne le cui condizioni, a detta dei sanitari delle Gavazzeni, parrebbero meno gravi del previsto. A rilevare l'incidente le cui cause vanno ricercate in un possibile colpo di sonno o una distrazione, gli agenti della polizia stradale disseriate.